La Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni. La sua storia è scritta nelle rocce. Dal 2009, un gruppo di scienziati sta cercando di determinare se l'Olocene, l'epoca geologica in cui siamo da 12.000 anni, sia terminata. Dieci anni di ricerche hanno evidenziato che abbiamo lasciato l'Olocene per entrare nell'epoca dell'Antropocene. Perché il pianeta Terra e i suoi sistemi sono ora influenzati più dagli umani che dall'insieme di tutti gli altri processi naturali. Grazie.